Nomi dei Saiyan I nomi dei Saiyan sono ispirati al mondo vegetale. Vegeta Il suo nome deriva dal termine inglese Vegetable, ossia, vegetale. Essendo Vegeta il principe dei Saiyan, il suo nome deve radunare tutti i vegetali. Tarbol Il nome del fratello minore di Vegeta, apparso in un OAB, deriva dal termine inglese Table, ossia Tavolo, col significato simbolico di oggetto su cui si appoggiano le verdure. Kakarot Il nome Saiyan di Goku deriva dall'inglese Carrot, ossia Carota. Radish Il nome deriva da Ravenello. Nappa Il nome deriva da una parola dialettale giapponese che indica gli ortaggi a foglia come, ad esempio, gli spinaci. Bardak Il nome deriva da Bardana. Broli Il nome deriva da Broccoli. Parallelamente, Tsufur deriva da Fruits, cioè frutta in inglese. Nomi dei membri dell'esercito della Red Ribbon. I nomi dei membri dell'esercito della Red Ribbon sono ispirati ai colori. Nomi della famiglia di Krilin Toriyama ha scelto il nome di Krilin basandosi unicamente sull'impressione data dal personaggio. Inoltre, il nome di Krilin deriva da Kuri, cioè castagna in giapponese, da Kukuririn. E la figlia Marron, al nome che deriva anch'esso da castagna, e quindi, si ricollega al nome di suo padre. Nomi della famiglia Brave I nomi della famiglia Brave ricordano indumenti intimi o sportivi. Bulma Il suo nome è una storpiatura di bloomers, pantaloncini corti da ginnastica per ragazze. Dottor Brieff Il nome è relativo alla biancheria. Trunks Il nome significa pantaloncini. Bra Il nome significa reggiseno. La madre di Bulma non ha un nome, ma Toriyama avrebbe voluto chiamarla Panshi, termine giapponese relativo agli slip da donna. Nomi della banda di Freezer I membri dell'esercito di Freezer hanno nomi derivanti da alimenti conservati in frigorifero, e la famiglia di Freezer ha nomi che ricordano elettrodomestici per conservare gli alimenti o che si rifanno all'idea di freddo. Recold Il suo nome è la chiara espressione del freddo, ed è un collegamento diretto ai nomi dei suoi figli. Freezer Il suo nome deriva dall'omonimo elettrodomestico, e il concetto di elettrodomestico che contiene tutti gli alimenti ben spiega la sua posizione di comando sul suo esercito. Cooler Il suo nome deriva da refrigeratore, o congelatore. Chilled Similmente a Recold, Cooler Freezer, Chilled ha un nome frutto di un gioco di parole attinente al gelo o al freddo. Chilled infatti in inglese significa refrigerati o refrigerato. Kiwi Il suo nome deriva da Kiri, Zarbon. Il suo nome deriva da Zabon, Polpelmo in giapponese. Dodoria Il suo nome deriva da Durio, frutto che in giapponese è chiamato Dorian. Apple Il suo nome deriva da Apple, ossia mela in inglese. Nomi della squadra Genio I nomi dei membri della squadra Genio derivano dai latticini. Genio Il suo nome deriva da latte in giapponese. Guldo Il suo nome è una storpiatura della parola yogurt. Jit Il suo nome deriva da Cheese, cioè formaggio in inglese. Butter Il suo nome deriva da Butter, cioè burro in inglese. Ricom Il suo nome è l'anagramma di Kurimu, cioè crema in giapponese. Nomi dei Nemecciani I nomi dei Nemecciani derivano da termini che indicano le lumache. Nomi della famiglia demoniaca del grande mago piccolo I nomi dei membri della famiglia demoniaca sono ispirati agli strumenti musicali. Nomi della banda di Babidi I nomi dei membri della banda di Babidi derivano da formule magiche tipiche dei cartoni Mi animati . Grazie a tutti.